e derby tra Legnago Salus e Vicenza squadra di casa che viene da cinque partite senza trovare il successo l'ultimo contro il Fiorenzuola Vicenza invece che vuole continuare sulla striscia di tre risultati utili consecutivi ottenuti dopo le due vittorie su Arzignano e Propatria e il pareggio originario sul Padova partita che inizia molto bene per il Vicenza che confeziona subito un'occasione con la punizione violenta di Costa non tocca Fortin la palla termina sulla traversa e poi in rimessa dal fondo la risposta della squadra di Donati con questa bella giocata di Gianni che mette al centro Muteba non si coordina si coordina Farransbeck che però non riesce a trovare lo specchio della porta con il mancino la risposta del Vicenza arriva grazie al tiro di Della Morte qui imbeccato da Capitan Gerardi che impegna e non poco Fortin Della Morte stava per fare un gol in fotocopia rispetto a quello fatto settimana scorsa con la Propatria ancora però fan Ransbeck per il Legnago qui in bucata di Rocco per il calciatore belga che questa volta se la trova sul destro non è il suo piede e non riesce a trovare lo specchio della porta di confente è una bella partita però un po' dura ci saranno tanti ammoniti nel corso dei 90 minuti ben nove di cui uno doppio ma lo vedremo nel secondo tempo qui intanto il tiro di Ronaldo che termina sul fondo ben lontano dal palo alla destra di Fortin la risposta del Legnago la spizzata di Gianni trova noce sul secondo pallo il numero 26 però era in posizione irregolare termina così 0 a 0 il primo tempo nella ripresa è un Legnago diverso non negli uomini ma nella sostanza qui l'occasione per fan Ransbeck che in buca per Rocco con Fente in calcio d'angolo grande parata del portiere del Vicenza poi calcio di punizione di fan Ransbeck il colpo di testa di Gianni di AB che la toglie con Fente ma la toglie praticamente anche dalla porta poi era in posizione irregolare il calciatore ivoriano al sessantottesimo minuto però cambia la partita la palla di Diabì per Gianni le finte su Sandon salta il numero 73 che lo atterra ci pensa su Caldera che poi alla fine fischia va anche ad ammonire Sandon e calcio di rigore per il Legnago dal dischetto si presenterà il capitano Rocco mentre qui il fallo che rivediamo di Sandon su Gianni sul grande spunto del numero 20 dal dischetto Rocco che non spiazza con Fente ma la mette comunque in porta il gol dell'uno a zero della squadra di casa il sesto nel campionato di Daniele Rocco rivediamo qui la sua trasformazione altra punizione per il Vicenza stavolta Ronaldo che però non fa abbassare quanto basta il pallone che termina alto sulla porta di Fortin poi cambia ulteriormente la partita la palla per Ferrari chiuso da spampato si lamenta troppo costa già monito si prende il secondo giallo della sua partita e Vicenza che termina la sua partita dunque in inferiorità numerica provandoci comunque fino alla fine la palla per Golemic che va ad un pixel dal gol dell'uno a uno così come ci va vicinissimo dall'altro lato Nicola Buric che sfrutta l'erroraccio di Rossi si presenta davanti a Confente ma col mancino non riesce a battere il portiere del Lane Rossi divorandosi un gol al suo ritorno in campo dopo sette partite al novantottesimo minuto arriva il triplice fischio di Caldera che decreta la vittoria del Legnago sul Vicenza per uno a zero torna a vincere dopo cinque partite il Legnago torna a perdere dopo tre partite il Vicenza